Per alcuni, il fatto che il calcio sia lo sport delle masse consiste in una sorta di colpa. I nomi di quegli undici uomini rimarranno per sempre perché sono un simbolo. Erano sì, undici uomini che nella vita tiravano calcio e un pallone, ma il calcio lo diedero non tanto il pallone, lo diedero al nazismo. Ecco, quel pallone, carico di sogni, carico di speranze, carico di libertà, quello continuerà a volare per sempre. Grazie a tutti.